Ebbene amici, fratelli della congrega, il commissario fallò, il commissario fallò, il commissario fallò, un libro masterpiece, absolute masterpiece, capolavoro imparagonabile e insurrabile, disponibile sulle maggiori catene librarie online, dovete accattarlo, questa non è una pubblicità occulta e non va occultato niente, l'ho trovato su Amazon, su IBS e presto anche su Audible, Se si muovessero a inserire il tutto, perché enumerai i file mp3, singolarmente, perfettamente, e voglio darvi un'anticipazione, se si presto una recensione, se si una video review, assieme a Walter, 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 Sud Maxman, un uomo sombra la legge, Uomini legulei, uomini da pasta coi legumi e donne da pasta coi piselli, a voi piacciono i piselli, lo so, allora, basta coi pisolini, ci vuole il commissario fallò, A proposito di Liam Neeson, presto, sui migliori schermi, con Marlowe, che è stato stroncato dalla critica statunitense, una media recensoria, veramente agghiacciante, e Liam Neeson confidò nell'intervista che fu la prima scelta per James Bond, prima che subentrasse all'epoca, Pierce Brosnan, Ma vi ricordate, omicidio a Poodle Springs, James Gunn, Elliot Gould, da non confondere con Elliot Goldenthal, che voi non sapete neanche chi è, chi sia, allora dicesi, dicasi, Marlowe, voglio darvi questa preview. Allora, la sinossi del commissario fallò 2, che sto terminando di scrivere. Sì, io vado di qua e di là a Gironzolo, poi creo opere di qualità. I miei libri non sono opuscoli, ma le mie sono opussesse, è plurale, veramente rinomate, di un uomo rinnovato, ancora disgraziato. Sì, ma si fa quel che si può in questa resilienza, in questa nostra sbiadita esistenza, che di nuovo si ammanta, si ammanta, si ammanta, di lucentezza. Basta. Allora, questa è la sinossi, da rivedere e correggere, e adesso vi leggo, alle 14.24, questo 20.03.2023, 20.03.2023. Sì, allora, sarà questa, forse un po' troppo lunga, perché c'è un limite massimo di caratteri. Diciamo, utilizzerò il Garamond, il Garamond, il carattere migliore, diciamo, quello che va per la maggiore, diciamo, nelle pubblicazioni. Voi che carattere avete, irascibile, lo so, non ve la dovete prendere se il falò si rigenerò. Ma come vi vengono così? Sì, veramente, sono straordinario, sono il commissario ricchio, lo gatto, sono un ratto, sono un cane, sono lupesco, volpesco. Poi esco, mi rinchiudono, entro, faccio quello che si deve fare, spio, origlio, annuso, e adesso leggo. Un uomo indagatore dei più fini e supremi, un commissario scrutatore all'interno degli infernali anfratti, apparentemente insondabili dell'incubo umano incarnato da una società nera e cupamente celante, molti neri scheletri nell'armadio. Il quale, passeggiando Cogitabondo, nei suoi dedali, neuronali, nei suoi pensieri, qui aggiungere qualcosa, da coagulare, sì, 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 inabissandosi mentalmente fra i decumani spettrali di una propria esistenza vivisezionante, esistenzialmente. I meandri di un mondo afflitto in modo pestilenziale, forse irreversibile, da una tetragine tanto incurabile quanto esiziale, né per lustra le oceaniche e glaciali criminosità terrificanti, amleticamente e infinitamente proteso, intimamente a indagarvi in maniera coscienziosamente vera e senziente, primordialmente visceralmente ostinato e implacabile, impietoso nella sua più profonda e misterica detection, scevra da ogni compromesso e incorruttibilmente severa, da investigatore la Philip Marlowe, modernamente ricreatosi e reincarnato dalla sua stilografica penna analogica, digitale, no, allora, la tastiera ergonomica, analoga allo stile raffinato e impeccabile di Raymond Chandler, uno è il gruppo di natura e matrice antellittera, un Benoit Blanchi, che è Daniel Craig, no, che a differenza dei glau, che ha occhi blu, 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 di Daniel Craig, sì, per dare un tocco, diciamo, in più, blu, blu, di Daniel Craig, possiede, che lui è stato James Bond, possiede Cangevoli, vedete, io scrivo questi libri che sono degli introgli, sono, diciamo, delle storie particolari, piene di associazioni mentali e riferimenti cinematografici, possiede Cangevoli, adesso parliamo con questi tromboni, con lei è mosce, moscissima, perché sono mosci, e il languide, ieri di scuore, ieri di, ieri di, ieri di, come se capisce un cazzo, scuore allineata a suo noir, noir vivente in mezzo al perpetuo arboilet, metaforico di questa nostra vita ripiena di duri enigmi, ostici, similmente apparentemente irrisolvibili, come in un fascinoso, romantico e pur al contempo gelido giallo d'antenne, poi ci saranno anche riferimenti a Alexandre D'Artagnan, tre moschettiere, ma sì, il commissario falò, cosa bolle in pentola, il bollore, che si va in Toscana, il caffè a bollore, il bollore, il sudore, il calore, un uomo che non rinunzia, rinunzia, sciacquare i panni in arno, la lingua italiana viene da quella toscana, rinunzia, rinunzia, come sta rinunzia a proposito? Annunzia? E annunziata? Tutta a posto? Rinunzia alla sua altezza morale in un mondo che di nobiliere ed eticamente, ce la dia ufonica, perché se si scrive un glasonio, c'è Daniel Craig, ma anche Edward Notton, non si può scrivere un film con Daniel Craig ed Edward Notton, le conoscete le regole, diciamo basilari, voi direste basiche, ma da dove venite? La basilicata, non si dice basiche, uno scrisse addirittura che in piazza Maggiore c'è la basilicata, la basilicata di San Petronio, e dire che questo è quasi laureate, ma dico la basilicata, ma scusi se stai in basilicata, come puoi stare in piazza Maggiore? Allora, edeticamente pregevole, quindi non si scrive ed 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 uonotto, ma si può scrivere ed et, et, eticamente, perché qui c'è la tia, a differenza della d, la d di domodasciala, pregevole, non ha più niente, smarritosi come fu infatti da tempo oramai immemorabile, in una lancinante perdizione morale, 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 non va bene, abbiamo detto rinunzi alla sua altezza morale, quindi dobbiamo correggere, perdizione, ecco, basta con le ripetizioni, volete ripetizioni da me? Pressoché indelebile, mortificante in modo universalmente abominevole, e terribile, su quale caso stai indagando, forse sul sensuale, mettiamo indecifrabile, sì, senso della vita, senso della vita spaziale, che assomiglia a una dark lady magnetica e sfuggente, inafferrabile ed eccitante, ci sta, questo è un pezzo del capolavoro, poi metteremo le note biografiche e bibliografiche, però, Stefano Falot, che è nato in televisione, sta andando, ha pubblicato il sacco, per ci penso io, allora, sono arrivato quasi a pagina 100, leggerete questo libro, si passa, diciamo, da Bob De Niro, naturalmente, ci sarà sempre lui, che è stato detective, detective Vincent Lamarck, The City by the Sea, by Michael Caterine Jones, colpevole d'omicidio, poi Liam Neeson, ci sarà questa recensione di Tim Maxman, un uomo sopra la legge normale, anche questo Honest Cif, un istituto per film, sì, la trama è un po' contorta, però, diciamo, il commissario, l'inspector, private time, perché lui guarda, lui guarda, guarda, è un guardone, è un wire, è un bon vivant, è un vivant, diciamo, è uno che sa vivere, a differenza della gente, diciamo, che vorrebbe essere dote civile, ma non sa scrivere, non è civilizzata, e allora si desse a quel gioco, ricordate, che andava negli anni 90, civilizzazione, ora, uomini, uomini incivili, uomini, alle prossime elezioni votate il falò, private time, allora, volevo dire una cosa, una battuta per concludere, vediamo, vediamo che posso dire, che posso dire, che posso fare, allora, la battuta, la battuta, lei andrà con le battone, lei non è un battutista, lei direbbe battutaro, ma che siamo a Roma, si dice battutista, ignoratone, lei come balazzone, uno che sta in piazza maggiore, e dice che io sarei un babbagione, quando è lui il bimbone, il bimbone, allora, private time, private time, poi c'è anche quel film, non è male, seven private time, ma è un'altra cosa, the steam spirit, salvato il soldato Ryan, allora, che volevo dire, volevo dire una cosa, private time, beh, brand e palma, adesso è uscito questo film, io lo guarderò, lo recensirò, naturalmente, lo strangolatore di Boston, Boston Strangler, c'era già un film con John Curtis, padre di Samuel Curtis, che adesso ha vinto l'osco per everything everywhere, all at once, che cosa, everything everywhere, all at once, hai visto, hai visto, avete visto, i faloni sa un più del diavolo, dice private time, un uomo che privatamente osserva, pubblicamente si espone, del figuro di merda, un uomo che viene deriso dalle donne, che è troppo bello, 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 impossibile, un uomo immacescibile, bellissimo, immacescibile, un uomo sinonimista, un uomo fissionomista, un profiler, insomma, un detective, un detective private time, volevo dire, una battuta, vedete, è un pezzo improvvisato, una battuta, non mi viene, non mi viene, è meglio, meglio, perché altrimenti soffrirete di eagulazione precoce, non deve venire subito, bisogna arrivare al sodo, al sodo gluteo, tornito scultorio, per l'uomo statuario, che è un bronzo di riace, quando, quando, quando gli incapaci pensano di essere stati rapaci, e allora concludiamo con i falchi della notte, Nighthawks, sì, Silvestre Stallone, ci vuole lo stallone italiano, lo stallone che lo ficca nell'eno, nell'ano, e basta, basta, io sono un bello e dannato, ma l'inzione, a donna dell'ingoronetta, il commissario fa lo due, sarà un sequel veramente magistrale, perché io frequenterei le scuole magistrali, e quindi da questo magistero, da questo magistero, da questo battistero, cantiamo con Lucio Battisti, chi si dà la batteria, lei ha le batterie scariche, sa, lo sa questo, lei non sa niente, lei deve sapere, si deve dare allo scibile, io sono un uomo similante, ho questa S che fa sc 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 sc, la S di Bologna, signore, 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 ladies and gentlemen, il falò, che presenterà la sua nuova opera, The 20 of you, sì, sono un comico, la mia vita è stata tutta una tragica media, ma quando pensi che sia finita, è proprio allora che comincia la salita, che è fantastico che sto, la vita, basta con Andonella vendita, basta uomini, se non farete i bravi, i bravi ragazzi, Masterpiece, 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 Goodfellas, vi spedirò nell'Istituto Psichiatrico Tonella, e lì mangerete la tagliatella, lo so, vi innamorerete di un infermiere che si chiama Antonella, e con lei canderete, canderete, non lo so, con Antonella canderete, lì ha la Tonella, quando è buona la mia besciamella, ma non è quella che si mette dentro le lasagne, si mette dentro qualcosa di altro, bellissima, come vengono, con tutto, diciamo, la pommarola in corpo, in gop, il ragù, e l'esplosione, diciamo, schizzante, con tanti frizzantini, spumeggiante. Ciao.